Un'altra edizione positiva contraddistinta da un programma variegato e da un'elevata partecipazione di pubblico. Nella weekend Narnia ha ospitato l'ultimo festival della sociologia, stavolta caratterizzato da un leitmotiv ben preciso, ovvero la volontà di gettare luce sulla complessa dinamica del rapporto maschera-volto. Per tre giorni di fila, numerosi incontri e dibattiti, con circa 250 relatori coinvolti, in almeno 60 panel andati in scena in varie location della Borgo Umbro. Tra gli appuntamenti più rilevanti sicuramente la presentazione del libro della giornalista Carmen Lasorella, intitolato Vera e gli schiavi del terzo millennio, un romanzo capace di dipingere vivide immagini della deumanizzazione dei soggetti vulnerabili, occhi puntati anche sull'intervento di Stephen Gandall dell'Università di Warwick, che ha ragionato sull'idealizzazione dell'avvolto nella società italiana del XX secolo, volto a suo avviso fortemente ideologizzato e destinato a ritornare. Quest'anno abbiamo inserito anche laboratori, mostre, quindi non soltanto il classico incontro di conferenza, ma abbiamo lavorato anche su altre forme di conversazione e di incontro, perché in effetti il Festival della Sociologia vuole essere questo. Quello di quest'anno è stato il primo Festival della Sociologia senza la direttrice Maria Caterina Federici, scomparsa improvvisamente nel mese di settembre e di fatto figura fondamentale nella creazione e nella crescita dell'evento, nell'arco di tutto, alla fine settimana, sono stati ricordati più volte lo suo carisma e il suo entusiasmo dal punto di vista professionale e non solo.